ciao simone perruzzi ciao ciao grazie anche tu nuovo di casa grazie per essere qui con noi oggi ultima sessione del nostro peri teams con te parliamo di un argomentino che ci piace tantissimo ovvero parliamo di licensing parliamo di spendere soldi però bene quindi cerchiamo di dare un pochettino un posizionamento al licensing capire qual è la migliore strategia da adottare anche in ottica di sicurezza i migliori piani da scegliere che cosa offre un piano piuttosto che un altro allora simone ti lascio un attimino la parola per far vedere un po un po di slide per spiegarci un pochettino qual è il ragionamento che deve essere fatto quando un'azienda vuole approcciare al mondo della security in modo intelligente per non trovarsi poi alla fine della cena un conto molto salato che può creare anche un indisposizione dirà mi è costato tantissima questa cosa mi costa tantissimo certo certo allora innanzitutto grazie mille di aver invitato inside technologies e grazie anche un benvenuto anche a tutti i vostri ascoltatori prima di tutto due parole su di me visto che magari non mi conosci non ci conosciamo quindi vale la pena una breve introduzione su di me io sono simone peruzzi e fondamentalmente lavoro da anni in ambito dell'ambito it ai tempi quando ancora i tempi cloud e hybrid computer ancora di là da venire proprio concetti assolutamente lontani della nostra realtà e sono in microsoft 2006 quindi da tanti anni ho coperto vari gol in microsoft prettamente in ambito tecnologico e management diciamo che l'area di sicurezza l'ho sempre toccata fin dall'inizio poi negli ultimi anni è evoluta ed è stata una escalation continua no certo lo vediamo anche tutti i giorni quindi al momento sono interprime security executive in microsoft che vuole dire fondamentalmente seguire tutto lo spettro della sicurezza compliance e identity per tutti i workload quindi per tutte le tipologie di workload che l'azienda un'azienda si trova a affrontare quindi la classica interfaccia del ciso del cio dei bdm si libera quindi questo è un po il mio ruolo in questo ruolo copre un elemento fondamentale anche l'aspetto licensing aspetto commerciale perché spesso e volentieri tecnicamente parliamo di scenari poi andiamo a confrontarci sull'ambito di licensing ci sono delle scoperte che magari non tutti i clienti conoscono oppure si inizia un po a trovarsi un po in difficoltà anche perché il licensing microsoft lo diciamo apertamente non è proprio la cosa più facile di questo mondo non l'ho mai stato e adesso è diventato ancora peggio col cloud sì diciamo che anno dopo anno cercando di introdurre delle semplificazioni però se spesso e volentieri ci troviamo ancora in situazioni molto difficili cioè io non sono esperto di licensing ci sono dei ruoli esperti di licensing microsoft però ovviamente per la mia tipologia di conversazione devo conoscere l'aspetto dei licensing detto questo mi vorrei dare veramente due giusto due parole sulla sulla strategia che copriamo in ambito cyber security i miei colleghi precedentemente vi hanno dato un po un aspetto magari anche di singoli workload dell'aspetto della strategia microsoft sulla sicurezza a mio aspetto un punto molto importante è come copriamo l'ambiente di di security strategy in a nutshell l'ambiente di sicuri stati in a nutshell fondamentalmente è che al di là di tutti gli investimenti che facciamo dei quadranti di garner di tantissime belle cose che diciamo alla fine la nostra strategia si rassume in una strategia che noi chiamiamo in 3d diplomacy disruption e defense fondamentalmente cerchiamo di lavorare con i governi tutte le nazioni per fare in modo di governare questo cyber space e in primis deve essere il governo la nazione stessa a dare delle regole ben precise sull'ambito cyber space noi cerchiamo di aiutarli cerchiamo di convergere su accordi internazionali esiste un government security program ad esempio che è firmato da vari governi worldwide che permette di avere di dare accesso al codice microsoft così come in ambito disruption cerchiamo di interrompere tutte quelle catenelle attacchi che sentiamo tutti i giorni le classiche botnet che vengono utilizzate per vari attacchi malware a non finire e infine l'ambito di defense che fondamentalmente ha due a a due anime l'ambito diciamo un po più consulenziale dove cerchiamo di aiutare i clienti a configurare i nostri i prodotti secondo le best practice tenete conto che fatte 100 i clienti che acquistano prodotti nostri magari 95 non li configurano correttamente o 90 quindi è fondamentale per noi aiutare i clienti a configurare correttamente i prodotti e poi infine la parte dei prodotti la parte bene propria della delle soluzioni in security microsoft e su questo diciamo che quello che possiamo dire è che in un approccio standard zero trust che ormai è abbastanza sdoganato sul mercato quindi quello sui sei pilastri dello zero trust offriamo come microsoft un approccio end to end però ci siamo resi conto che non è abbastanza l'approccio end to end e quindi spesso e volentieri quello che cerchiamo di fare è di fare in modo che questo approccio sia vada un pochino più in profondità cioè ci rendiamo conto che i rischi di sicurezza si mischiano con altri rischi di un'azienda classica e quindi l'approccio end to end non è più sufficiente con un approccio più profondo che ci permette da un lato di dare un'esperienza utenza semplice più semplice possibile dall'altro lato dare la possibilità di correlare questi vari segnali e andare a proteggere un po po più in profondità quindi l'ambito di compliance l'ambito di identità l'ambito di endpoint management ne avete parlato anche oggi l'ambito di privacy un altro elemento che copriamo molto è l'ambito di privacy che oggi per vari motivi di tempo non riusciamo a coprire e infine l'ambito multi cloud dove ci stiamo muovendo attivamente quindi in quest'ottica il panorama microsoft sulla sulla base delle soluzioni è fondamentalmente ricollocabile in tre macro aree l'ambito di cm e l'ambito di senti nell'ambito di cm multi cloud l'ambito di xdr che si ricollega in ambito defender 365 e ambito defender for cloud è proprio in quest'ambito andrei vi farei vorrei far vedere un po come funziona il licensing o l'aspetto commerciale sull'ambiente di sentine così lo vediamo anche un pochino un po meglio in dettaglio ora al di là dell'aspetto tecnologico che appunto ripeto possiamo potete approfondirlo anche autonomamente anche i singoli ascoltatori possono approfondirlo autonomamente con le tonnellate di informazioni che abbiamo all'interno della nostra nostra database online quello che è importante è l'aspetto diciamo come viene l'aspetto commerciale come viene pagato sentine sentine fondamentalmente viene pagato per ingestion gigabyte al giorno quindi quanti gigabyte al giorno raccoglie la piattaforma sentine questo punto è quest'elemente fondamentale perché se vedete in questa slide fondamentalmente raccogliamo quattro elementi fondamentali l'ambito di data ingestion quindi servizio senti nel nude crudo che può essere fatturato in una modalità pesigo o in modalità commitment years e adesso in breve vi vado a vedere che cosa vuol dire certo il servizio azure monitor anche questo per gigabyte al giorno che sarebbe fondamentalmente il motore che sta dietro servizio microsoft sentine infine la parte di log analytics quindi la parte di data retention quindi come quanto per quanto tempo voglio ottenermi i dati di azure sentine e infine la parte di remediation la parte di soar del nostro sentine che anche questa viene pagata in base a quante logiche applico per avviare la remediation sulla piattaforma sien quindi fondamentalmente di questi quattro elementi i più importanti sono i primi tre quindi la parte di servizio sentine la parte di azure monitor e la parte di retention su questo tema sulla parte di servizio monito sul servizio senti nel servizio di azure monitor abbiamo due tipologie di spesa il pay as you go dove fondamentalmente paghi quello che consumi certo nude crudo quindi io pago accendo la sentine sulla mia infrastruttura ricordo sempre che parliamo di servizi a consumo quindi servizi che utilizzano la sottoscrizione azure subscription che potete avere assolutamente in qualsiasi momento quindi accendo un servizio dentro la mia subscription azure e questo mi permette di iniziare a consumare pay as you go c'è anche un altro un'altra logica la possibilità di utilizzare delle reservation come chiamiamo nel mondo nel mondo data center quindi io specifico a microsoft che ogni giorno raccoglierò un certo quantitativo di gigabyte al giorno e a quel punto microsoft mi fa uno sconto quindi rispetto al pay as you go c'è un risparmio sostanziale economicamente sulla piattaforma stessa certo quindi anche qui in base alle stime che facciamo insieme ai nostri tecnici che facciamo tutti insieme è possibile prevedere o stimare quanti gigabyte la piattaforma raccoglierò in base ovviamente a quanti segnali vanno correlati e da qui abbiamo delle fasce 100 gigabyte 200 gigabyte 500 gigabyte posso vedere il primo mese primi due mesi come come va e in base a quello decidere se cambiare il piano da pay as you go a un fixed price assolutamente anche in base alla crescita dell'ingestion perché banalmente se parto inizio magari avrò pochi dati se inizio ad attaccare tanta roba che riversa verso log analytics le informazioni crescerà in modo in modo esponenziale quindi poi decido qual è la politica per poterlo cambiare anche in corso d'opera è un fattore non non da poco assolutamente la flessibilità della piattaforma in cloud è massima il fatto di avere della possibilità di abilitare una free trial quindi attivare sentine magari portare in raccolta i dati messaggi nativi della piattaforma Microsoft Defender e poi integrare i vari workload è sicuramente una strategia vincente ci permette di capire mese per mese o comunque settimana per settimana come sta crescendo il mio raccolto dati e da lì ovviamente il consumo anche perché poi in log analytics c'è proprio un grafico che lo spiega in Sentinel c'è una solution che fa vedere la progressione di ingestion del dato quali sono le aree dove sta confluendo più informazioni qual è la parte di security di monitoring quindi capisco anche subito come sta un po' andando a parare il sistema non è una cosa alla cieca del tipo ah ciao da oggi hai fatto 400 giga mi devi per 400 giga ho anche la possibilità di analizzare non ti dico in temporale ma almeno settimanalmente come come sta andando la mia progressione complessiva sì ecco il fatto di avere dei workbook si chiamano workbook appunto che mi fanno vedere questa progressione è importante perché separati per workload posso capire quanto consuma quanto pagano e proprio in quest'ambito recentemente sentine ha introdotto una funzionalità che si chiama basic logs che prima permette di utilizzare e raccogliere dei dati che magari sono meno preziosi per realtà aziendale perché magari faccio meno query a livello di correlazione sul mondo della piattaforma cm ma che potrebbero essere importanti hanno una retention quindi la possibilità di raccogliere da tenere i dati per meno tempo vedete fino ad otto giorni ma mi danno la possibilità poi di archiviarla fino a sette anni su dei storage meno pregiati certo e questo è un punto importante perché sono log che ovviamente hanno un valore diciamo inferiore e vengono pagati in maniera inferiore quindi anche a livello di costo fotturazione a un costo non troppo mente inferiore oltre a questo ci sono anche dei free data source quindi sappiamo bene che sentine può raccogliere i messaggi nativi della piattaforma defender fondamentalmente for free e questo lo vedete anche nel workbook che citavi poc'anzi anzi mi pare che forse abbiamo anche uno screenshot o una demo dove facciamo vedere la possibilità di capire dopo lo mostriamo lo preparo ma si lo facciamo lo facciamo vedere ottimo ottimo vado un attimino avanti perché sempre sullo stesso ambito abbiamo la possibilità di archiviare i log quindi l'archiviazione è un punto importante perché tenete conto che i log all'interno della piattaforma Sentinel possono essere tenuti fino a due anni da lì in poi posso utilizzare una piattaforma archived logs all'interno di Sentinel che ha sicuramente un costo inferiore e mi permette di tenere i dati sulla piattaforma Sentinel fino a 7 anni quindi anche questa è una flessibilità notevole un punto importante sempre dal punto di vista commerciale o diciamo risparmio economico è il fatto che per i clienti che hanno già un tenant con abilitato uno dei piani che vedete qua sullo schermo quindi un piano E5, un piano A5, un piano F5 è possibile utilizzare, è possibile automaticamente farci riconoscere per ogni utente fino a 5 megabyte al giorno per utente su Sentinel e questo sembrano poco 5 megabyte al giorno per utente ma su una scala di 2-3 mila utenti iniziano ad essere dei gigabyte al giorno gratuiti che la piattaforma Sentinel può raccogliere certo e questo, anche questo nelle economie di scala della piattaforma anche perché abbiamo detto che il cloud è diventato un facilitatore per tutto e tutti la piccola azienda che magari non ha un grosso volume di ingestion e vuole portarsi i dati principali dentro lo può fare in modo semplice perché poi il concetto del SIEM sotto un certo punto di vista non è solo la remediation, il controllo, il warning ma è poter memorizzare il dato nel lungo periodo banalmente GDPR dice che io devo tenere traccia di quello che succede all'interno dei miei documenti per 6 mesi log analytics mi può memorizzare i dati per 6 mesi se qualcuno mi dice chi ha cambiato questo file in Excel 3 mesi fa lo faccio una query ho l'elenco di tutte le persone che hanno fatto la modifica in quell'arco temporale senza dover stare a tirarmi scemo per usare proprio un modo molto classico e potermi archiviare anche questo dato per fino a 7 anni su il nostro regime è meno pregiato ma che comunque mi dà la possibilità di fare una query sulla piattaforma facciamo vedere al volo quello che dicevi? sì allora passiamo sulla mia macchina che almeno lo mostriamo questa è la il workbooks all'interno di Sentinel faccio guardiamo il template che tanto comunque è legato al nostro ambiente di test mi dice che io in questo momento ho occupato 2,2 giga ho un ingestion di 2,2 giga per giorno paragonato agli ultimi 7 giorni con un costo predittivo di circa 71 dollari divisi poi per tipologia di workload quindi i security event che sono quelli più grossi che transitano da tutti i server che ho vengono memorizzati poi anche qui posso scegliere che tipologia di dettaglio di quantità di log di eventi andare a collezionare se tutti i common o i simple questa cosa cambia pesantemente anche se per fortuna poi con Azure Monitor questa cosa la stanno migliorando e poi avere tutta una serie di informazioni quello che hai detto tu il benefit con le 5 la 5 l'F5 quindi abbiamo anche detto bene abbiamo anche detto bene esatto e anche qui vedere il dettaglio proprio del beneficio che vi portate dietro con il tenant esatto perché vengono spiegate tutte le varie ottimizzazioni che possono essere fatte quanto sarebbe l'ingestion eventualmente il costo poi chiaramente questo è un ambiente demo ecco importante è tutto automatico esatto questo collegamento tra le 5 quindi il cliente che ha piano maio su 3.5 e 5 e la piattaforma Sentinel è automatico certo quindi molto molto semplice poi dopo faremo vedere le altre le altre demo assolutamente quindi giusto per anche riassumere quello che abbiamo appena detto sulla piattaforma Sentinel quindi da un lato abbiamo le feature correnti le feature fino ad oggi fino a qualche mese fa dove abbiamo i nostri log analytics abbiamo il costo di ingestion quindi il costo di raccolta dati al giorno abbiamo una data retention quindi un costo di data retention che può aumentare fino a 7 anni come vi dicevo dall'altro lato abbiamo delle funzionalità nuove che abbiamo appena introdotte non sono proprio nuove e recentissime ma da qualche mese sono state introdotte quali i basic log che vi dicevo quali la parte di ingestion charge che ovviamente cambia quindi anche il costo di queste funzionalità è inferiore rispetto a quelle di analytics perché è ovvio che va a toccare dei dati di raccolta dati che come vi dicevo hanno una priorità inferiore sempre e comunque importanti ma inferiore e infine la parte di data archive anche questo è importante anche questo è importante perché mi permette di andare a vedere come posso archiviare as a wall questi dati per interrogazioni future come dicevi tu fino a 7 anni certo che poi questa cosa della data archive sta prendendo un pochettino piede nel mondo Azure lo stiamo vedendo con la parte di archive dei blob dei file perché banalmente uno dice io ho il mio backup il backup cuba se lo sposto in un repository di archiving ha un costo notevolmente più basso faccio un esempio stupido di un prodotto Vim backup per Microsoft 365 permette di salvare su un blob storage Azure ma poi supporta anche l'archive di Azure per la long term retention quindi dire tutto quello che è molto vecchio mi serve lo tengo lì parcheggiato ma ha un costo molto tranquillo molto soft perché il problema del cloud è che la mole di dati cresce in modo incontrollato e quindi poter avere degli storage a bassissimo costo che magari non interrogerò mai sono un paracadute ma che non mi va a impattare sull'economia se pensiamo a un ambiente on premises non è che posso creare i miei ambienti paracadute facilmente comunque sempre devo comprare dei dischi e questi dischi in un NAS o in una SAN li dovrò mettere e quel pezzo lì che costa e poi lo devo mantenere perché la volta che mi serve si scassa non accendo neanche più al dato mi hai ricordato dei scenari ritornando alla mia introduzione iniziale quando parlavamo di ambiente solamente on premise dove il cliente si deve recuperare delle soluzioni di terze parti per andare a fare archiving con dei costi esagerati costi di integrazione complessità enormi quindi in questo caso il cloud è veramente un beneficio soluzioni archiving dentro la stessa soluzione certo è un costo inferiore certo certo ottimo ottimo il secondo punto che volevo portare all'attenzione oggi e vi ho portato un po' degli scenari è l'ambiente Microsoft 365 quindi dicevamo l'altro pilastro della nostra strategia Microsoft vi ricordate tre pilastri CM e Microsoft Sentinel la nostra piattaforma XDR che ci permette di andare un po' in profondità sui segnali che è composta da Microsoft 365 Defender e da Microsoft Defender for Cloud sulla parte di Microsoft 365 Defender ovviamente non ci spendo tempo perché sicuramente ne avete già sentito parlare vedono parlato anche i miei colleghi oggi la cosa secondo me importante prima di tutto è un chiarimento sulla parte EDR protezione EDR perché? perché anche qua nella punti di vista commerciale a partire da gennaio abbiamo introdotto delle novità fondamentalmente abbiamo dato modo a tutti i nostri clienti che avevano già un piano Microsoft 365 e 3 di usufruire di una protezione pre-bridge sugli endpoint che si chiama Microsoft Defender for Endpoint piano 1 certo anche qui quindi Microsoft Defender for Endpoint quindi la protezione EDR per gli endpoint Microsoft non Microsoft client Linux macOS mobile soprattutto l'ambito mobile è stata splittata fondamentalmente in due piani piano 1 e piano 2 il piano 2 è quello che vedete qua sullo schermo è il full EDR la nostra piattaforma full EDR per l'antonomasia come vi dicevo a cross platform il piano 1 a differenza del piano 2 lo vedete evidenziato sullo schermo ha dei punti fondamentalmente di evidenziati che sono la parte di pre-bridge quindi la tax surface reduction e la next generation protection quindi un'attività di alerting ma non di detection e non di response quindi a differenza del pull EDR e vi ho portato anche una distinzione delle funzionalità anche questo è importante quindi capire quali sono le funzionalità del piano P1 e piano P2 e questo è un punto particolarmente importante perché per i clienti che hanno già il piano Microsoft Defender fondamentalmente hanno già la possibilità di utilizzare Defender for un endpoint piano 1 quindi hanno già la possibilità di abilitare una pre-bridge sui endpoint anche sui mobile e anche questo è un punto che ultimamente con i clienti stiamo sottolineando perché magari un punto mobile sull'EDR è un po' più sottovalutato ovviamente l'EDR è un costo e quindi sapere che magari ho già il piano Microsoft 365 3 ho già una piattaforma pre-bridge sul mobile mi fa venire per lo meno una domanda ma quasi quasi provo a abilitare vedo come funziona a meno quello e proprio in quest'ambito vi ho portato una spiegazione di questi temi sulla classica keychain perché questo? perché quello che cerco di fare anche quando parliamo di aspetto commerciale è capire ok sì mi compro il pacchetto mi compro la funzionalità ma cosa va a indirizzare la funzionalità e quindi in una classica keychain che magari avrà già spiegato il mio collega tecnica specialist Vito che mi ha preceduto Marco sicuramente che mi ha preceduto e quindi questa keychain ovviamente non ve la sto a spiegare ma do per assodato che i vostri ascoltatori la conoscono già e l'abbiano già vista in questa keychain ci incastriamo le soluzioni Microsoft quindi vedete quale con le soluzioni in external threats e in internal risk quindi come sull'esterno possiamo proteggere la keychain e come all'interno ci sia un rischio di internal risk e rischio magari di condivisione di dati aziendali e come possiamo proteggerle data loss prevention insider risk management perché vi ho fatto vedere questa keychain e questa segmentazione perché lì a questo punto possiamo andare a vedere vari scenari quindi supponiamo che siamo in uno scenario dove tu sei il cliente sono il cliente se cliente chiamato contoso vi faccio vedere nella slide lo scenario 1 quindi se è un cliente che ha una piattaforma ma che sono i 5.3 per mille utenti ma sei interessato e hai anche fondamentalmente scusatemi anche il piano active directory piano 2 quindi la possibilità di aumentare l'identità avanzata quindi identificare il rischio della sessione di autenticazione che si chiama Azure Active Directory piano 2 che se vedete sta sul blocco in alto quindi dove sta il blocco Enterprise Mobility Security 5 quindi vedete nel blocco in alto per mille utenti quindi quelle evidenziate in verde però contoso è interessata anche a altri ambiti quindi sta parlando con me Simone perché fondamentalmente è interessata un ambito di IDR quindi un ambito di full IDR sull'end point e anche un ambito di protezione dell'identità on premise e di cloud app cloud app security certo quindi in questo caso lo scenario contoso qual è ritornando a chi c'è lo scenario che vedete qui sullo schermo quindi da un lato abbiamo la piattaforma Microsoft 5.3 che è già un bundle comunque interessante dal punto di vista di security ha delle base importanti abbiamo da un lato l'information protection e governance che mi permette di classificare le informazioni sui dati destrutturati quindi documenti Word, Excel anche altro PDF con terze parti anche altri tipi di file in modalità manuale e infatti lo vedete qua in verde dall'altro lato abbiamo in alto leggera di identity protection perché? perché vi ho detto contoso ha anche acquistato l'identità avanzata perché vuole essere sicura del rischio dell'autenticazione di utenza certo e quindi ha acquistato anche leggera di directory identity protection vedete che è in giallo il defender for end point perché è in giallo? perché vi ho detto prima che la piattaforma Microsoft 5.3 ha al suo interno una piattaforma di pre-bridge l'end point piano 1 quindi non è il full IDR quindi non è verde ma è comunque un giallo perché comunque c'è una parte dell'end defender for end point ora la cosa interessante è vedere come si evolve lo scenario quindi ritornando al discorso di prima il cliente mi interessato all'IDR al CASB interessato alla protezione di town premise come lo evolviamo questo scenario? lo possiamo evolvere vedendo i blocchi in blu andando a bloccare il cloud up quindi andando a bloccare il blocco in alto a destra di defender for cloud up quindi bloccare le sfiltrazioni dei dati su tutte le applicazioni cloud up security le SAS application che sono più di 3.000 da punti di vista di cloud up andiamo a bloccare l'identity andiamo a proteggere l'indità on premise quindi i classici movimenti laterali defender for identity e andiamo a bloccare questo quadrante che vi faccio vedere qua sullo schermo andiamo a alzare il livello di protezione su l'end point quindi l'end point diventa blu certo ok quindi ottengo il full ADR quindi questo è uno scenario che mi permette di utilizzare quello che ho già a disposizione è di identity protection information protection e aumentare la mia protezione su l'end point e sulla parte di identità on premise certo tra l'altro questo questo schema che hai fatto vedere noi siamo partiti da un piano un po' evoluto che è il Microsoft 365 e 3 sulla slide successiva secondo me merita una grandissima nota il fatto che buona parte di quei quadranti che hai mostrato la business premium ce l'ha dentro cioè le aziende piccole da subito possono avere un tipo di protezione di class enterprise perché hai il defender per office 365 p1 hai dentro il defender for business che è un cross tra la p1 e la p2 che è un gran bel piano tra l'altro hai dentro a disposizione il defender la parte di azure information protection chiaro manca l'identity defender for identity manca alcune cose però hai dentro davvero tante cose senza dover andare a comprare prodotti di terze parti che integrati come hai detto tu poi con sentinel che fanno parte di quei blocchi gratuiti ti danno la possibilità di avere pacchetto ready to use senza doverti muovere su 10.000 soluzioni e questa cosa secondo me ancora ad oggi è molto sottovalutata per colpa anche dei partner che non lo spiegano bene per colpa dei partner che vogliono vendere le multisoluzioni solo per venderle senza dare poi quella coerenza che hai detto tu prima con l'esempio dello storage di terze parti perché poi hai una comunicazione che è nel back end che non ti devi preoccupare di nulla è anche una correlazione del dato è una piattaforma unica abbiamo mostrato Defender 365 che da un solo posto tu vedi tutto e secondo me è una chiave fondamentale nel mondo enterprise anche qui secondo me le aziende stanno iniziando a capire che convergere verso il monobrand è più semplice il know-how diventa uno solo e soprattutto aggiungere dei pezzettini lo puoi fare in corso d'opera e in modo alle volte parzializzato assolutamente sì giusto una notte su quello che hai detto è una roadmap ovviamente nella kill chain che facevo vedere prima è importante che vi diano e vi diamo i suggerimenti giusti per andare a riempire quei pezzettini perché c'è una logica dietro abilitare la protezione dei town premier senza avere l'identità avanzata ha poco senso quindi ci sono delle logiche dietro però sicuramente è una roadmap evolutiva che possiamo costruire insieme così come penso alla parte di Azure Information Protection quando noi abbiamo col piano E5 c'è tutta la parte di automatic labeling ci sono utenti e documenti che necessitano questa cosa altri che non ne necessitano quindi bisogna anche capire nell'ottica del security strategy del license strategy è quello di dare al cliente quello che gli serve realmente perché se no dopo dice io non posso comprare mille licenze E5 che costano comunque un sacco di soldi per l'utente che è in magazzino il magazzino avrà delle necessità magari può bastare il piano F cioè può essere quello può essere il piano E3 cioè dipende anche il tipo di device che usa il tipo di attività che fa quindi l'intelligenza è anche nel dare un supporto nel collocamento di quella che è il rischio di accesso il dato da trattare perché se no davvero diventa tutto incontrollato certo e poi ovviamente anche il nostro ruolo perché è semplice tra virgolette parlare di E5 full però è ovvio che ha un costo che ovviamente è molto elevato quindi è giusto anche calarlo nel contesto del cliente field workers blue collar white collar vogliamo proteggere l'identità perfetto per tutti white collar blue collar perfetto sappiamo quali arei andranno a parare senza che il cliente magari voglia prendere full E5 certo quindi questo è importante cioè banalmente già il piano pv come hai detto tu ha tutta la parte di risk risk sign in e risk non mi ricordo mai i due nomi user sign in user risk e sign in risk che servono per capire se viene fatto un logon da un posto non classico quindi un unfamiliar sign in se viene usato se viene usato un device se viene fatto un brute force attack e questo serve per proteggere l'identità aziendale io sono stato in America ultimamente mi ha colpito troppo una pubblicità adesso in America spingono tantissimo sulla protezione dell'identità digitale fanno polizie assicurative e corsi per l'identità digitale alla gente perché adesso è più importante proteggere l'identità personale digitale che non qualsiasi altra cosa perché in America poi il furto di identità è uno dei reati più elevati se ti rubano l'identità anche qui in Italia possono fare a nome tuo carte di credito abbonamenti qualsiasi cosa e dopo vengono a cercare te non vengono a cercare qualcun altro nell'identità digitale è peggio probabilmente cioè in un mondo business è critico e alle volte anche peggio perché ti rubano l'identità digitale e entrano nei dati dell'azienda assolutamente sì e soprattutto in una cyberspace nessuno sa che sei un cane esatto assolutamente potresti essere un cane nessuno lo sa vado un pochino più veloce vado a vedere qualche altro scenario perché ve l'ho preparato proprio per farvi capire la modularità dell'approccio non tanto prendo il full 5 ovviamente pensando a budget limitati secondo scenario sempre contoso sui mili utenti questa volta non hai l'identità avanzata l'identità avanzata ma sei interessato alla parte di enterprise mobility security 5 quindi tutto lo stack identità protezione di identità on premise user risk segno in risk come dicevi tu la parte di CASB e le DR quindi in questo caso lo scenario corrente come dicevo sempre è sempre il Microsoft 5.3 quindi vedete qui il defender for end point piano 1 l'information protection la base di information protection manuale l'interesse in questo caso è a proteggere il full stack quindi proteggere il triangolo d'identità che noi chiamiamo Azure Active Direct Identity Protection defender for cloud app e la parte di identità on premise defender for identity perché triangolo dell'identità perché su su questi tre blocchi si gioca qua il movimento di un attaccante all'interno della torre alta aziendale quindi se malauguratamente il defender for end point non riesce a intercettare o un aidful ADR di terza parte non riesce a intercettare un attacco nel momento in cui l'utenza o l'attaccante malevolo all'interno della torre alta aziendale si sposta o si muove o fa delle azioni può intercettarle attraverso defender for identity Azure Active IP2 o defender for cloud app quindi questo è un po' il secondo tema un punto importante lo terzo scenario è quello fondamentalmente di E5 security perché perché l'E5 non esiste solamente il full E5 ma esiste anche un E5 security E5 security fondamentalmente sarebbe un bundle che ha solamente le funzionalità di sicurezza senza le funzionalità di compliance e in questo caso rispetto allo scenario precedente abbiamo la parte di defender for office quindi anche la parte di anti-spam anti-malware che sarebbe il piano 2 quindi conclude anche la simulazione degli attacchi molto importante la simulazione degli attacchi di phishing e quant'altro quindi anche in questo caso partiamo da uno scenario corrente come sappiamo dei MS 5.3 ci spostiamo verso uno scenario di interesse blu dove abbiamo fondamentalmente protetto tutte le esterne threat sia l'ambito di anti-spam quindi l'ambito di keychain quindi quando un'utenza magari utilizza una mail malevola per entrare all'interno dell'alte aziendale per poi spostarli internamente come ci siamo detti prima certo questo è un po' lo scenario e questo è una dimostrazione del fatto che le licenze possono essere modulate assolutamente e anche tra white collar e blue collar per distinguere tra field workers e utenza diciamo VIP fondamentalmente più voluta un quarto scenario che vi ho portato è l'ambito di compliance perché perché anche qui nell'ambito di E5 security esiste anche l'ambito di E5 esiste anche l'ambito di E5 compliance quindi a differenza del scenario precedente invece che avere security abbiamo compliance quindi tutte le funzionalità di compliance dentro un bando L5 e in questo caso viene coperto l'information protection avanzata quindi l'automazione della classificazione delle informazioni per intenderci utilizzo Microsoft Information Protection per classificare i miei dati destrutturati con delle categorie di automazione particolari non solamente stringhe ma anche intelligenza artificiale per riconoscere dei modelli ti faccio un esempio ultimamente abbiamo lanciato una tecnologia che ci permette di riconoscere per esempio i modelli di curriculum vitae da tutti i documenti Word ovviamente i documenti Word i CV sono tipologie molto differenti ma il formato la struttura è sempre quella quindi c'è un titolo all'inizio il ruolo la tua storia e quant'altro senza andare a vedere una classe particolare di una parola chiave o una sintassi particolare e di questi modelli ce ne sono tantissimi all'interno di questa Information Protection Piano 2 e infine la parte di Compliance e qui la parte di Compliance intendo il Data Loss Prevention e l'Insider Risk Management vi ricordo che il Data Loss Prevention innanzitutto si basa sulla classificazione dell'informazione quindi i dati strutturati ma soprattutto si applica poi a tutto l'ambiente di collaborazione quindi se io utilizzo Teams o utilizzo Exchange o utilizzo SharePoint per condividere un documento classificato da lì posso agire in certe modalità quindi magari comunicare all'utente che questo dato è confidenziale quindi non puoi condividerlo in Teams con un guest esterno quindi blocco la condivisione oppure posso condividerlo ma deve essere protetto prima in certe maniere quindi questo Data Loss Prevention mi garantisce da un lato che l'IP aziendale non esca dall'inizio aziendale qualsiasi canale utilizzi perché segue il documento la classificazione segue il contenitore non segue lo supporto dove sta e dall'altro lato segnala all'IT Admin che cosa sta succedendo e quindi alzare delle pandillerine rosse certo certo quindi questo è un punto molto importante sì tra l'altro questa cosa della protezione può essere fatta su singole stringhe su documenti interi banalmente tu puoi tra chat puoi anche bloccare la condivisione di numeri di carta di credito assolutamente che è una cosa non banale perché alle volte dici questo è il codice della carta manda assolutamente sì e questo è un punto importante perché ovviamente si basa la strategia fondamentale per evitare che in questo mondo così aperto oramai ibrido dove si lavora da casa si lavora da qualsiasi disparata posizione si lavora dall'ufficio si cerchi di proteggere il più possibile l'IP aziendale in qualsiasi posto sia anche su una chiave USB finalmente e anche qui scenario corrente che oramai conoscete bene la Microsoft 5.3 e lo scenario futuro l'area di interesse dove andiamo a identificare l'area di compliance sottostante ma soprattutto un punto importante che anche qui spesso non viene sottolineato Microsoft 5.5 compliance si porta dietro anche il cloud app quindi anche tutte le logiche di cloud app security broker sono all'interno del bundle perché? perché è logico pensare che se io monitoro la mia realtà aziendale per evitare che si perdano degli information protection degli IP aziendali è importante che anche gli applicativi che utilizzo siano monitorati certo anche perché cloud app una cosa bella che fa è multipiattaforma assolutamente lavora con box con dropbox perché una delle cose che si ci si dimentica è che non esiste solo Microsoft e avere una protezione cross per capire dov'è il dato come protetto è fondamentale perché poi è vero c'è office 365 è bellissimo però ci sono aziende che hanno anche altre piattaforme per memorizzare i dati e non poterli controllare da questo punto di vista sarebbe devastante assolutamente sì quindi questo è un po' lo scenario gli scenari che ho più avuto lato Microsoft 365 e Defender la stessa alcune logiche le possiamo applicare anche sul mondo di Defender for Cloud quindi il terzo elemento che vi faccio vedere in basso a destra quindi come posso proteggere l'ambiente infrastrutturale ora per questioni di tempo ovviamente non posso andare in profondità però ci tenevo anche qui a lasciarvi un messaggio importante a di là dell'aspetto tecnico che potete sicuramente leggere magari siete già informati sull'aspetto tecnico non è il mio scopo oggi fare il tecnico anche se la mia route è tecnica però vi volevo dare un'informazione sull'ambito EDR sui server sulla piattaforma data center perché perché da poco recentemente Microsoft ha introdotto la possibilità di proteggere i server non più con la licenza defender for endpoint for server ma con l'aspetto di consumo Azure quindi servizio Azure questo mi dà la possibilità e ha introdotto due piani questo mi dà la possibilità da un lato di proteggere i server in maniera più olistica perché perché in un ambiente di defender for cloud for server posso proteggere i server sia che siano on premise sia che siano in cloud Azure sia che siano multi cloud quindi defender for cloud for server mi copre anche dei server che stanno su piattaforma WS su piattaforma Google e ne avete già parlato in passato e mi dà anche tutta una serie di funzionalità lato server che sull'endpoint client non hanno ragione ad essere ad esempio il vulnerability assessment quindi io posso lanciare n vulnerability assessment con una partnership che abbiamo firmato con Qualis su server on premise in cloud multi cloud certo questa attività ovviamente in un ambito defender licenza server non la posso effettuare quindi è importante questa distinzione vi ho portato uno schema dove si vedono le differenze delle funzionalità e questo è un punto importante perché al momento la piattaforma di RFR server può portare a confusione quindi io acquisto la licenza acquisto consumo Azure è importante chiarire questo aspetto quindi l'EDR per i server è per l'autonomia Microsoft Defender for Cloud for Server certo poi ci sono dei scenari magari ancora legacy o magari di vecchi enterprise agreement che si portano dietro la licenza ma attendere quello che ci aspettiamo è portare sempre più questi server protetti in EDR verso un consumo Azure anche perché Microsoft Defender for Cloud si porta dietro tante altre cose oltre la parte di Defender dell'MDE classico a tutto che tra l'altro ora si integra con Endpoint Manager quindi arriva anche la gestione però appunto hai la parte di patching hai la parte di vulnerability assessment hai tutta una serie di logiche che puoi applicare cioè c'è tanta roba dietro e quindi quei famosi 15 dollari macchina mese sono una cosa che se uno va a unirla a tanti prodotti di vario genere ci vai sopra rispetto alla cifra proposta da Microsoft vero faccio il mio lavoro hai detto certo la parola giusta il termine giusto 15 dollari al mese che erano la piattaforma Defender for Cloud for Server fino a poco tempo fa adesso abbiamo splittato le due tipologie di consumo infatti se la vedete nello schermo vedete la differenza quindi abbiamo Defender for Cloud for Server piano 2 che ha 15 dollari e ha full spectrum di funzionalità che dicevi tu prima e abbiamo Defender for Cloud for Server piano 1 che è molto di più della licenza ma non costa come Defender for Cloud for Server piano 2 quindi invece che costare 15 dollari è paritetico qua vedete i prezzi al listino ovviamente prettamente di riferimento però vi da un'idea che non parliamo più del triplo di un costo di una licenza parliamo dello stesso peso certo e lì a quel punto inizio a pensare come cliente beh in effetti quasi quasi mi conviene passare all'idea e al server lato consumo a Azure certo certamente assolutamente sì assolutamente sì questa è una logica importante altre cose veloci che vogliamo aggiungere? abbiamo ancora qualche minuto mi pare di sì giusto un ultimo accenno sull'ambito OT e IoT sì assolutamente assolutamente sì abbiamo parlato di Defender for Cloud abbiamo detto che Defender for Cloud è molto di più della protezione dell'auto server tra le tanti tipologie di protezione del workload protegge anche al mondo industriale in mondo IoT ora questo è un ambito da punto di vista Microsoft nuovo ma dal punto di vista di protezione non è nuovo perché come sapete abbiamo acquisito una soluzione CyberX due anni fa che faceva solo questo era anche un leader di mercato su questo fondamentalmente l'abbiamo integrata l'abbiamo evoluta e l'abbiamo inserita all'interno dell'ecosistema Defender e questo è molto importante perché vuol dire che non parliamo da from scratch da questa soluzione ma partiamo da una base dati una base è un'esperienza molto importante tenete conto che tutti gli esperti CyberX sono confluiti in Microsoft quando parliamo di un mondo industriale cosa significa? parliamo di un mondo che è sicuramente eterogeneo mondo OT che fondamentalmente sono gli SCADA PLC HMI tutti i macchinari industriali molto legacy ma anche la classica macchina legacy Windows XP che fa il taglio controllo numerico della pelle per esempio quindi la classica macchina sotto la fabbrica impolverata che è un XP di 20 anni fa di 30 anni fa dovrebbe esserci proprio un cliente che lavora in questo settore tenuti in mente qualche cliente dovrebbe essere proprio in ascolto bene allora stiamo parlando proprio di te è anche per te è anche per te dall'altro lato c'è il mondo IoT che anche quello è un mondo sicuramente in evoluzione è un mondo già più evoluto ed è un mondo che ci permette di avere una flessibilità maggiore anche dal punto di vista della scalabilità della soluzione ovviamente il mondo di IoT IoT convolge vari aspetti coinvolge un aspetto di rischio a livello di business ovviamente blocco la produzione industriale ovviamente blocco il core business dell'azienda parliamo di dispositivi che spesso l'azienda manco sa di avere quindi quando andiamo a parlare di queste soluzioni parliamo di realtà magari dove la industria non sa quanti dispositivi ha collegati sta utilizzando che tipologie di firme hanno non sa nulla di questi tipologi di ecosistema quindi è un punto importante anche il solo asset management di queste realtà e poi sicuramente l'ambito di protezione che è importante sull'ambito di protezione è importante dire che la differenza è sostanziale tra l'IT e IoT mentre nell'IT parliamo di sicurezza nell'ambito dell'OT parliamo più di safety quindi sicurezza dal punto di vista persona perché ovviamente la sicurezza non riguarda più solamente la sicurezza dell'IT ma riguarda proprio anche come l'essere umano si rapporta con la macchina perché magari fa un errore alla macchina potrebbe comportare dei danni anche l'essere umano parliamo di un ambiente sicuramente air gaped quindi difficilmente collegato e proprio su questi ambienti fondamentalmente Microsoft ha una soluzione che mi permette di dare tra virgolette quattro punti fondamentali da una parte l'asset management dall'altra parte la possibilità di andare a interrogare qual è la situazione lato firmware dei dispositivi e lato vulnerability quindi andare a simulare delle vulnerabilità all'internozamento industriale quindi andare sulla base di dispositivi che ha trovato il Defender for IoT andare a simulare degli attacchi su questa realtà industriale certo e da lì fare una remediation quindi un punto molto importante un punto importante da dire che la soluzione può funzionare agentless o agent-based quindi agentless è ovviamente per i dispositivi più vecchi dispositivi legacy agent-based o micro-agent per voglio dire è per i dispositivi un pochino più recenti IoT, OT e quant'altro ecco in questo ambito è importante sottolineare che la soluzione viene pagata al numero di dispositivi gestiti al mese cosa vuol dire? vuol dire che fondamentalmente io pago in base a quanti dispositivi la soluzione Defender for IoT va a gestire in un mese parliamo di 100 parliamo di 1000 parliamo di 2000 parliamo di 10.000 di 100.000 e questo è molto importante perché mi dà la flessibilità sui vari impianti perché magari ho degli impianti che hanno pochi dispositivi e altri impianti che hanno di più ma soprattutto mi dà la possibilità di installare dei sensori hardware che posso sensori hardware o sensori virtuali che posso installare all'interno di un impianto e da riraccogliere tutte le analitiche dei dispositivi e la cosa importante è che ai sensori fondamentalmente il software non si paga perché viene può essere scaricato all'interno della piattaforma Defender for IoT quindi fondamentalmente il cliente una volta che ha acquistato 100-200 dispositivi di IoT può decidere se utilizzare una macchina hardware con determinate specifiche e installarci l'immagine sopra di hardware sensori di IoT può decidere di utilizzare la macchina virtuale oppure può decidere di utilizzare un altro distributore internazionale e acquistare la macchina già preconfigurata questo è un po' l'ambito di IoT anche perché la sicurezza ormai è cross e con l'avvento sempre più massiccio dei dispositivi IoT per misurare qualsiasi tipo di informazione raccoglierla proteggerli diventa fondamentale ne parlavamo durante un nostro evento in cui si parlava che è anche ormai la lavatrice ma mette il sensore dentro e potrebbe essere fonte di un attacco quindi deve essere proattiva nel capire se il firmo era vulnerabilità o ci sono criticità in tal senso per non come dire chiudo tutto bello il castellone poi lascio la porticina di ingresso da dietro e ci entrano tutti quanti e l'approccio olistico che vi faccio vedere qui in questa slide è proprio quello che dicevo all'inizio quindi avere un ecosistema nel quale proteggo sia l'ambito di IoT sia l'ambito di IT con delle soluzioni che parlano tra di loro corrano alle segnalazioni e lo portano verso un CM che sicuramente può essere cloud based come Sentinel ma può essere anche un CM di terze parti quindi posso portare questi messaggi a un CM di terze parti oppure lavorare side by side il nostro Sentinel il nostro CM cloud based con un CM che avete già certo sì assolutamente vero assolutamente vero ottimo Simone grazie abbiamo leggermente esplorato ma ne valerà la pena perché siamo riusciti a chiudere il cerchio con tutte le informazioni relative al mondo del licensing o comunque dei vari scenari che ci sono all'interno del mercato io ti ringrazio per essere stato ospite qui con noi ancora grazie a voi grazie a voi che mi avete ascoltato grazie a voi grazie a voi